Ehi la, bentornati a Sakurai! Questa mattina, quest'oggi, Sakurai ci ha dato pesante col sake Perché questo update è un po' come dire... Per dirlo in una parola Mostra, Meloette Un Pokémon che abbiamo già visto nel direct in azione Insomma, canta e le sue note rimbalzano in giro Infliggono danni Più efficace in luoghi chiusi ovviamente E poi aggiunge l'informazione che molti avevano già capito Che nel trailer di Greninja i Pokémon che venivano mostrati Appareranno in qualche modo nel gioco Tuttavia, Sakurai dice anche che Meloette non appare nel trailer Ma questo non è per niente vero Non so se riuscirò a fermare il video O a rallentare il video in modo a farvi vedere dove è Meloette all'interno del trailer Ma è lì, sono abbastanza sicuro Quindi, Sakurai, you fucked up! Spero che l'update di domani sia meglio Domani è il grande giorno per me Domani è smash day per me, quindi... Ahah, bene Alla prossima E se venite su Twitch Potete passare le 3 con me La prima parte delle 3 perlomeno Grazie per l'attenzione e bye bye!